La Carnaroli è la nuova coordinatrice di Sinistra Unita, eletta ieri durante l'assemblea annuale della coalizione nella sala del Consiglio Comunale, ha preso il posto di Teodosio Auspici, da poco nominato vicepresidente di Aset Holding. La Carnaroli, insegnante, è stata tra le fondatrici di Sinistra Unita ed è stata eletta all'unanimità dall'assemblea dei 97 iscritti. Inoltre, tra le novità del congresso, c'è la nomina di una seconda figura chiamata ad affiancare la coordinatrice. A recoprire questo ruolo, l'assemblea di Sinistra Unita, su proposta della stessa Carnaroli, ha indicato Filippo Carloni, 32enne, con una laurea con lode in informatica che si è particolarmente distinto durante la campagna elettorale per Samuele Mascari.